Come avete fatto a trovarmi? Abbiamo visto l'elicottero di Pagan. Non si spinge mai così a sud e volevo capire perché. E' andata bene. Eravamo in zona quando ci ha scritto Dalpan. Beh, eccoci qua. Benvenuto a Banapur. Sede del sentiero d'oro. Lui chi è? Dov'è Dalpan? Non ce l'ha fatta. Lui è Ajai Galla, figlio di Mohan. Fammi capire. Dalpan è morto? E mi hai portato questo qui? Io non c'entro con questa storia. Sto solo cercando Lakshmana. Siamo nel bel mezzo di una guerra. Non abbiamo tempo per i turisti. Cosa volevi che facessi? Che lo lasciassi lì? Mi spiace, fratello. Amita è un po' permalosa. Ci parlo io. Per Lakshmana, dal suono si direbbe un tempio, un santuario. Ma se è così, è al nord. Il nord è territorio nemico. E non ci possiamo andare per ora. Rifletti un po'. Torna quando sei pronto. Ciao a tutti amici di Roma dalla banana. Eccoci per il secondo video di Far Cry. Dopo la fine del prologo. Sì, l'abbiamo introdotto con questo video, con questa breve animazione. Adesso cominciamo questo secondo episodio, seconda missione diciamo, secondo capitolo. Dago se ne ha guardato in giro qua. Siamo arrivati. Sordi là, che è? C'è del sangue fresco nel sentiero d'oro. Ah. Ci sono delle lettere. Ah, sono delle persone. Questa è quella che nel video ci ha mandato a far culo un po' che però. Dice sempre che non dovrei farlo. Sabal. Sto solo insegnando a proteggerti. Ciao. Ah, il turista. Dica male, eh. Sono Amita. Lei è Badra. Amita è un po' puttarella, ciao. Ciao Amita. 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 Senti, ho reagito male prima. Siamo in guerra. Continuiamo a fare dei suoi partiti, il lavoro si accumula. Tranquilla, Amita. Non sono un soldato, ma voglio aiutare. Sì. Certo. C'è una fattoria non lontano da qui. Ok. Venica nanna, ma lei è vecchia e le serve aiuto con qualche animale. Va bene. Le pelli ci servono intatti, quindi usa questo. Badra? Cosa stai? Ok. Dobbiamo andare a caccia, praticamente. Dobbiamo andare a caccia, a poche parole. Quindi ok, ci ha affidato una missione sta statizia. Ok. E' una cosa fatta via, la dana dei lui. Andiamo a... Allora, non è un'altra a testa, la donna. Ma dall'altra parte del lina. Ah, no, 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 no. con r2 sparo, freno a mano rotondo, scendi, ok, per cambiare i comandi di guida nel menù ok, quindi con QL faccio tutto, tutto l'analogico sinistra e freno a mano rotondo, puoi guidare e sparare, sei un'arma secondaria, comandi di r2 spara, uso oggetti da lancio, ok, quando guidi premi L3 puoi attivare guida automatica, il veicolo è andato automaticamente, consistente di mirare sui lati e alla tua spazio, ok, va bene, va bene, spero che no, ok, facciamo tutto con la levetta analogica, mi so perso dove mandare qua, ma uguale credo, bello, come si porta a sto quad? Ma non male direi, sto corre troppo, sto corre troppo, per un passatore ce ne mettiamo uno sotto, poi a mità ce l'ha da più porcazzo, faceva con la patente questa cosa no, si smariva e rinte ferma qua, vai 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 vai, arriva fino al pallino, vabbè, semmai arriva di fare brutto da, sta con l'arco, arrivi, oh, levo a starco, sta sparare vecchia, fermo poi, la starco, questo lo sparare vecchia, buona cazzo, ciao, che sta la vecchia la fattoria, c'era, ambre con una che ti sembri, problema, ah, più giusto sta bene, che, la bina, ok, questa parla, eh, ma c'è lupi, quest'anno sono diventati più aggressivi e sono preoccupata per lei, c'è una cosa, c'è un bel corcellino, credo che Canan abbia dei rifornimenti da qualche parte nella fattoria, le puoi usare, eh, ok, scuoi alle prede, le pelli ci sono sempre utili, ok, ok, allora cercamossi lo prima che cercare rifornimenti, raggiunge la posizione d'acqua, scusa, 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 sopra, sopra, no, sì, ma se questa parlava di sta capanna qua, ve lo vedeste i rifornimenti di che si trattavano, ma c'avemo l'arco, vai, vai, dice, andiamo salita, sai, no, non c'è nulla, oh, che è un lupo, quello, è un lupo, maledetto, no, è troppo lontano, è troppo lontano, tiene per evoluto, R2 in cocca freccia, rilascia, tira, tira, ok, ho preso che manco col cazzo, avvicina, avvicinate, ecco, me ne son mosso, per cazzo, niente, finisce pure questo, vedete che stiamo troppo lontano, preso, dai, uccisione diventa doppia la pelle, ma vai, pori, pori, dobbiamo squogliare il lupetto, ok, ok, abbiamo preso la carne, però, no, la pelle, pelle di lupo, ah, ok, in modo monna, l'altro roso, troveremo l'altro lupo, questo gioco ha degli scenari fantastici, sì, veramente, 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 bello, gli scenari, bravo, ok, ok, monta qua, ce ne sarebbe stare un altro, premi, a fotocamera come prima, ok, per marcare nemici e animali, allora, non sta, là che c'è, no, quelle sono, quelle sono morti, ah, eccolo là, marcalo, ok, perfetto, levamo, e dobbiamo scendere, adesso direi che dobbiamo scendere, buon ricordi, ah, ha fatto male, eh, si va, la sua mezza, una frasca, poi spire, no, abbia assoluto, si, distruggi la tana dei lupi, quindi provi e vede ce ne sarà più di uno qua, vai, 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 siamo vicino a questi, quanti so, 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 più non li prendo, non li prendo, mori, mamma mia, che cagata sotto, non so stato impeccabile, però, vabbè, app, portate al risultato, si, distruggi la tana, allora, Natale è qua, chiede chi è stato morto, come il pollacco, che è un altro luogo morto, forse ci fa prendere la velle, si, no, spoglie, no, abbiamo dato come sempre l'obiettivo delle pelle, l'abbiamo preso in un due, però credo che, però sempre vedo quello, uno morto, c'è un cristiano morto, ah, 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 cosa che c'è, ma, se c'è, ma, se c'è, ma, se c'è, ma, pure, foto del matrimonio, andiamo fregata, so, con la cia, di secondo, rida, tanto è morto, che c'è, fa, si, cosa che stavano un po' le sordi, sacco di riso, allora, come la distruggiamo, statana, noi, avessi preso una porta, curate, curate, che mi si è spenta la luce, mi si è aspetta, mamma mia, mamma mia, stavo con testa, lo scogliamo, scoglio, scoglio, vai, vai, più quelli che portavano, più bella figura famo, no, ma no, le pelli che abbiamo presi, c'è, vai, vai, ma le frecce più che altro, so, non finire, non finire, no, non credo, sai, eh, non c'è un indicatore, ne sa di sì, quando la incocchi, mi sa che la massa a destra, questo che c'è, la comunione, vedi, ci stanno i frecce, abbiamo il primo modo, frecce, vecchio denaro, allora, ruota delle armi, ah, ecco, ok, l1 per la ruota delle armi, premi quadrati per usare le frecce in generale, e usa le frecce, triangolo per le frecce, così le distruggiamola, no, le frecce, basta che ce l'ha già, non devi selezionar né, qua se vuoi selezionare, volano, ok, allora, rimaniamo così, ok, quadrati se scegliere, distruggi la dana dei lupi, sinistra, sinistra, ho messo quelle incendiarie, ok, devi stai evitare là, però da, tira da fuori magari, da fuori, sì, annulla tiro, quelle incendiarie con le esplosive, ti erano incendiarie prima, quindi quadrato, no, non ha spinto quadrato, non lo sa, prima, no, perché, devi selezionarle a quadrato, adesso, spingi quadrato, uno spinto, triangolo, mi sa che dobbiamo prima, ecco, adesso, ok, bisogna prima selezionare, ok, ok, la dana dei lupi, l'abbiamo distrutta, no, perfetto, un po' se c'è da l'obiettivo completato, c'è poi, ok, torna da cananna, la maria, la regaliamo da questo, sì, tanto gli eserciò, è più, ma nanna, 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 mamma mia, cosa pivio io, che ho cercato, nel lupo, e cercato, ma se botta, ah, ah, bello, mi è piaciuto, eh, mi è passato davanti, noi andavamo un po' veloci, eh, ah, cananna, ma la vecchia se sarà riscioccata come una cosa, cananna, muadra, mombriaca, con la madre, la polsato, magna da lupido, immagini, cananna, ha sdrumato tutta la recensione, cananna, abbiamo abbassato di lupi, però siamo distrutta la fattoria, sono armi secondarie, che vuol dire, cananna, c'è la decina però, ecco, vuoi dove vuoi, ah, ho detto, se erano mangiate, ah, no, aspetta, se la siamo persa, dove sta, ah, qua c'è l'armagliare, oh, eh, lei vegli armi, no, va, padre, come va, bene, io ho portato queste pelli, ho pensato che potessero tornare utili, sono ottimi, ah, già, però le puoi tenere, le ha già abbastanza per i sui tank, scusate, no, prima quella mani, no, che c'è al tanga, la vecchia, ah, quello è sul demone, ah, quello è sulla dea Kira, la rotta il cazzo, uno, le piastre belli, mo' si vedo modere a noi, vabbè, gli abbiamo ucciso i lupi, però che gli ammazziamo, non li bestiamo, ok, il canale non le sembra che c'è stato tanto, ci crediamo, si, si, viene trattata, ci crediamo, una cosa, ma chi, a bambina, ti farò vedere come farlo, va bene, eh, ma se ci fai vedere un'altra cosa, se non è molto uguale, eh, missione completata alla tana dei lupi, bene, io direi che anche per oggi, ci siamo, possiamo salutarvi, no, ci siamo 14 minuti, va bene, dai, possiamo, io direi che possiamo salutarvi con, assolutamente sì, oggi, per oggi, con Far Cry, basta così, ci vediamo al prossimo video e fateci sapere se, se vi piace questo gioco, questa novità, e ricordate di continuare a seguirci sempre sul nostro canale, perché i prossimi giorni arriverà anche Dragon Age, ah, Dragon Age, in cui continueremo con Assassin's Creed, con Assassin's Creed, e poi, con cui non lasceremo indietro, nè da Evolute, nè Call of Duty, abbiamo comunque delle serie in corso che, dobbiamo continuare, ma i giochi sono tanti, continueremo tutte, però diciamo che nei prossimi giorni ci concentreremo più sulle novità, più su, diciamo, le novità più recenti, logicamente, esatto, va bene, mettete tanti mi piace e condividete i video, mi raccomando, ciao a tutti, ciao, 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 ciao.